Attenzione! Ministero della Sanità, è stato rilevato un colpo di tosse. Per la tua sicurezza e quella altrui sono stati avvertiti i funzionari sanitari. Saranno sul posto a breve. Dopodiché verrete trasferiti nella prossima struttura di quarantena più vicina. In seguito verrete monitorati i sottoposti a tampone e tampone antigenico, tampone molecolare, tampone anale, vaccino, booster, vaccino, vaccino al quadrato potenziato. Vi preghiamo per qui di rimanere nella posizione in cui vi trovate. Ogni tipo di movimento non è autorizzato e severamente vietato con seguito penale. Siamo tutti sulla stessa barca. Insieme ce la faremo.